capitolo 13 il santuario col punto di domanda addirittura va bene e andiamo a esplorare sicuramente sarà pieno di bastardi anche qui bastardi si intende i nemici che sparano ovviamente questo era sottointeso ma se seguite la serie ormai penso l'abbiate appurato ok e qua credo che già li sento eccoli godo via muozioni a ks ok questa colorazione è molto uncharted mi piace mi piace foto 10 e dagli un bel calcione grande natan abbiamo cambiato luogo almeno puoi rallentare potrebbero esserci sicari diedi ma perché pareva il telefono la voce aia che schifo oddio ho capito c'era anche a the last of us e c'era anche nel capito dei precedenti guarda attentamente gli sputtoni mi stai forse prendendo in giro questo è del nostro aereo aspetta questo non ha senso perché avrebbero piazzato trappole così se l'isola brullica dei loro stessi uomini non loro c'è passato qualcosa qui dopo qualcosa o qualcuno ma pensi che shh hai sentito che devi stare zitta niente parla parla e basta non fa altro questa siamo osservati osservati ma parla eh ma si di sicuro non c'è niente via da qui prima che incontriamo la cosa che ha rosicchiato questo tizio ok e poi non è proprio un aspetto di quelli invitanti ecco eccolo lì eccoli il laser fine del laser ma togli del cazzo arena ok sei morto ma che è cecato lui via aeree qualcuno con l'arma pesante abbiamo oh accidenti oh accidenti fine non è che ci si può nascondere nell'erba come assassin's creed vero non essere lontani se hanno lasciato il loro scagnozza al cancello eccole le bande ti ricevo voglio la libreria sotto controllo non devono raggiungere Sullivan sì signore nel vecchio lavora nella zona orientale del complesso non so perché lo hanno portato non ci si può fidare di quel figlio di puttana facciamo così ma perché non ci sono le pistole silenziate sei morto io o tu insomma forse io perché cominciamo non muore adesso muore ok oh bastardissimo ok laser non deve assolutamente cogliermi ok che affare serio no non voglio la M4 voglio la K47 ti ringrazio del regalo ma I don't need it now and I don't want it lo so anche a me ok troviamo Sullivan e portiamo il culo lontano da qui tutto per incorrere sto Sullivan no per andare a salvare insomma quello che è e poi vi spoilerò che non diventerà mai un nemico Sullivan anzi sta cosa che ce la posso fare si nascondono da proprio al cazzo e ho avuto abbastanza di questi tipi eh chi lo dice sei mio bastardo e dopo ventordici colpi è morto vieni qui contro il muro aia sei bello uno e uno per la vita questo era un po' compromettente ragazzi sveglia eccolo anzi eccoli a dove comincio brava Elena ho fatto una cosa a modo finalmente invece non li ha ammazzati ma va vieni qua pochi colpi c'ho c'è uno lassù godo proprio gli ultimi rimasti vabbè io raccato adesso qualsiasi arma mi capiti sotto anche se fosse un M4 ragazzi a questo punto la K47 è passata di moda e allora dobbiamo adeguarci ai nuovi trend ovvero la M4 ok lo apri? non lo apri e allora è di qua è qui oh vabbè è un po' più difficile fammela ma non lo so fai te suggerimento lì ho capito suggerimento lì però ok suggerimento qui ok adesso ha senso bravissimo sinistra destra su non morire non morire e tira beh il calcione qua non c'è nessuno con munizioni per M4 no ok andiamo avanti non vorrei cascare però magari qua c'è qualcosa sa che non c'è proprio un cazzo invece fa prendere un colpo ogni volta che salta ripeto maledetti giochi vecchi anche io che li gioco eh per carità però qua a me mi pare esserci nulla quindi vado giù per forza a 9 mm può anche andarsi a fare andare a farsi e voi lo sapete quanto inverto i termini così a caso oh c'è un tesorino principiante ma caccia di tesori principiante ok bastardissimo bastardissimo ragazzi dai sei stronzo oh capito mi si incricca il tasto raga mi si incricca il tasto adesso mi incazzo eh spegni i controlli e prendi l'altro state vedendo adesso come funziona oh no fuori è un problema del gioco ho capito va bene mo so cazzi però lì c'è una liana inutile dire che qualcosa c'è da fare questi se gli sparo non crolleranno mai se gli sparo non succede niente ma gli sparo lo stesso appunto dov'è Elena adesso però eccola fammi aprire sto coso va però ah ok vai signora dove sei oh no con calma eh tranquilla con calma ragazzi ok lascialo andare troppe barriere ho detto piano troppe barriere vuol dire combattimento ancora una volta prepariamoci che tanto qua sarà mezzo massacro eccoli oh merda si vede eeeh due c'ho solo cinque colpi due ho già fatti fuori tre no ok via con l'M4 fallo fuori spara per ok laser fatto fuori andiamo avanti ecco ti fuori che bello quando muoiono così grodola lacrimente qui che raccattiamo nulla ok nessuno più c'è l'M4 bellissimo forse lui salvatore della patria e ciro della patria no ecco mancava l'Omino Corazzi bellissimo no vero Mino Corazzi è che non lo vedo quello è il problema ok lì sotto godo via un altro Mino Corazzi e vieni fuori dai Corazzi guarda come muori poi mi servono dei colpi qua se no si fa una brutta fine adesso tutti i giorni ho il pomper comunque si chiama M79 se vi interessa se lo so che c'è da là però dammi tempo per noi sarà pistola Corazzi sprata da Razomen oh eccoci qua lavorava in questo piccolo bar nelle Filippine aveva un sorriso in grado di sciogliere il cuore ma ti giuro su Dio era in grado di ucciderti come di baciarti se non rigavi dritto era una cosina non più alta di un metro e sessanta la chiamavano la filatrice perché aveva vuoi tacere vecchio ce lo hai già raccontato decine di volte oh lo so certo che l'ho fatto la memoria non è più quella di un tempo perché diavolo ci stai mettendo così tanto beh non hai notato che la maggior parte di questi libri sono mezzi marci è scritto in spagnolo sì ok ma muoviti il capo ti sta aspettando ehi lassù cavolo aia oh no continua la guerra al riparo ah c'è Razomen la terra dov'è Razomen partiamo da te che non ne vuoi sapere di morire stranamente come tutti i tuoi amici oh grandioso morto ovvio che no ok è una corsa a chi spara per primo falese la ricarica mancava pure la ricarica ok abbiamo fatto il giro che c'è Razomen lì sotto no non c'è Razomen ops sono sette munizioni che palle dov'è? non muore l'ho smitragliato ma non muore eccolo eccolo Razomen proprio quando non me l'aspettavo più ecco Razomen di nuovo vabbè ma Razomen muore facilmente per fortuna amico era ora che arrivassi pensavo fossi morto hai un bell'aspetto per un cadavere così hai portato la ragazza la ragazza? ehi se non fosse per lei ora nessuno ti starebbe salvando se questo è un salvataggio cosa diavolo significa? ammettilo Sally tutta questa storia è sospetta già prima spifferi tutto a quei tizi e poi rispunti miracolosamente vivo no aspettate un attimo avevo i killer di Roman alle calcagna dovevo prendere tempo cugino di Nico Bellic sono stato stupido dovevo capire che ci avrebbero seguito Sally se per una volta avessi tenuto la bocca chiusa ora saremmo di ritorno a casa con il tesoro e tu potevi controllarmi il polso prima di scappare e darmi per morto sentite queste cose non importano va bene allora come spieghi di essere qui vivo e vegeto eh? vegeto non ci crederete mai impossibile il vecchio Francis ha preso il colpo per te credevo succedesse solo nei film già beh fa ancora un male cane credimi ci credo comunque quando hanno visto che ero vivo ho convinto Roman che non avrebbero trovato il tesoro senza di me è da allora che cerco di sviarli aspettando la vostra comparsa beh ora dove sono? beh stanno seguendo una falsa pista su cui li ho mandati dall'altro lato del monastero guarda Drake aveva capito tutto gli spagnoli usavano quel simbolo per indicare i depositi segreti il tesoro è nascosto proprio qui nel monastero troviamo il simbolo e troveremo il deposito abbiamo tutto quello che ci serve proprio qui tutti gli indizi per arrivare al tesoro ce la possiamo fare va bene non penserete di diventare amiconi e scordarvi di nuovo della ragazza vero? non pensarci nemmeno Sally è un destro che uccide lo terrò presente comunque Sally sarà il personaggio che ci porteremo dietro per tanto tempo non è uno spoiler mandato rifatto questa stanza c'è più di quanto sempre ne sono sicuro queste statue nascondono qualcosa ho capito un po' come tipo il primo capitolo che ce l'ha da sistemare delle cose ok l'angelo si chiama Matteo l'aquila John l'unicorno Liu che cos'è una chimera ok nord è di là montare verso nord no? che cazzo vuol dire? può andare? boh penso di sì punta verso sud questo è ovest sì che complicanza però cos'è un toro un unicorno che cazzo è? forse questo è andare verso sud? che roba prova a ricontrollare il diario eh ma va allora sud l'huk è tipo l'unicorno sud questo cos'è? questo è il leone con le ali verso ovest però aspetta verso ovest è di qua allora ok questo è il formaggio di peco di capra di pecora cos'è? questo è il yuk che guarda verso su in effetti sud è quello quindi ci siamo questo è l'angelo forse è quello più riconoscibile dei quattro ed è Matteo deve guardare verso nord quindi va girato di 180 gradi e di qua cosa abbiamo? di qua abbiamo questo uccellaccio che è John che deve guardare verso est est è là quindi va girato di 180 gradi esatto ve l'ho pure spiegata ragazzi bingo e allora giù negli inferi certo una torcia qua non faceva schifo quadri un'altra biblioteca e adesso? e adesso non lo so loro seguono me ma io ne so meno di ora aspetta luce forse sì vanno controllate le altre colonne immagino ok è lì la torcia me l'ha interrotto bellissimo sembra promettente come sono brutti i sandali di Elena ragazzi sono orribili ok state fermi lì andrò a dare un'occhiata ehi ehi aspetta no non andrei laggiù da solo già ci sono uomini di Roman dappertutto infatti è una persona sola e molto più silenziosa di tre dai starò bene e voi qui sarete al sicuro non sanno nemmeno di questa stanza ok porta questa con te lasciala sul canale 13 loro non lo usano e tienici informati va bene ma canale 13 non era un capitolo di della sto fase parte 2 devo andare a controllare ma mi sa di si ci sta chissà mezzo easter egg questo non l'avevo visto addio ok la terra dei morti ci siamo e ci siamo davvero